Buongiorno e ben trovati a questa nuova edizione della Rassegna Stampa di sabato 2 gennaio. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi che in prima pagina mette come titolo principale il tema della occhialeria. Vitaloni, l'occhialeria difende i posti di lavoro. Il presidente di Anfao, l'associazione nazionale che raduna i fabbricanti di articoli ottici, è ottimista. Il bonus vista darà una mano a noi e a chi è in difficoltà. Contiamo di recuperare entro fino maggio il fatturato perso la scorsa primavera. La fotolotizia della prima pagina è dedicata a Matilde, la prima nata nel 2021 all'ospedale San Martino di Belluno. Matilde scrive il Corriere delle Alpi. È nata alle 6.29 di ieri all'ospedale di Belluno. Un'ora dopo l'ospedale di Feltre ha visto la luce Ginevra. Il 2020 si era chiuso con la nascita di Sebastiano alle 12.30, sempre all'ospedale di Feltre. Ma andiamo all'interno del Corriere delle Alpi leggendo alcuni dei titoli che vengono dedicati prima alla politica nazionale e poi alla situazione regionale e provinciale. L'avviso di Mattarella per la stabilità adesso è tempo dei costruttori e dal Quirinale filtra che in caso di caduta del governo si andrà direttamente allo scioglimento anticipato delle Camere. Fico, una crisi adesso sarebbe disastrosa, bisogna accantonare gli interessi di parte. Questa è la considerazione del Presidente della Camera. Andiamo ancora avanti. Eccoci sul tema della emergenza sanitaria che anche oggi impegna numerose pagine di questo e anche degli altri quotidiani. RT e contagi troppo alti. Preoccupano sei regioni. L'Italia è a rischio stretta. Nel primo bollettino del 2021 i positivi sono 22.211. Ancora tanti morti, 462. Torna l'allerta in Liguria, Veneto, Calabria, Puglia, Basilicata e Lombardia. E le vaccinazioni vanno al rallentatore, usato solo il 7% delle dosi disponibili. Su 470.000 razioni disponibili ha ricevuto l'iniezione lo 0,05 della popolazione di cui oltre 30.000 sanitari. Per rispettare il piano ne servono 110.000 al giorno. In Europa corrono Germania, Regno Unito, indietro la Francia. Terapie intensive verso l'esaurimento. Si convertono i letti dei poli chirurgici. Siamo passati alla situazione a livello regionale. Sistema ospedaliero sotto pressione. L'ondata di recovery sta saturando le 658 degenze fin qui attivate. La sanità è in allarme. L'ipotesi arancione dopo l'epifania. I timori di Zaia sulla riapertura della scuola in presenza. Campagna vaccinale. Veneto nel gruppo delle regioni virtuose. Ritmo lento nelle RSA, cioè nelle case di riposo. Nei primi giorni somministrato all'11% delle dosi disponibili in regione. Ancora marginale il coinvolgimento degli ospiti delle case di riposo, appunto. Il ministero conteggia solo 20 anziani immunizzati. L'Azzarin in realtà sono 220. L'Azzarin, assessore regionale alla sanità. 6 decessi e 454 nuovi positivi in 48 ore. Siamo passati alla provincia di Belluno e il Corriere delle Alpi propone il bilancio degli ultimi due giorni perché, come sapete, ieri i quotidiani non sono usciti e quindi riportano i dati sia di ieri che dell'altro ieri. Ancora in sofferenza agli ospedali, soprattutto i reparti di area critica. Oggi e domani drive-in in tamponi al San Martino all'ospedale di Belluno. Quasi mille bellunesi vaccinati in pochi giorni. A Nao, sindacato dei medici, la pandemia ha messo a nudo la carenza di personale. Il sistema sanitario ha retto bene nella prima ondata, complice anche il lockdown, ma la seconda fase non ha perdonato gli errori. L'ex direttore generale dell'US, Rasi Caldonio, nominato commissario per due mesi. Il suo mandato scadeva a fine anno ed è stato appunto prorogato in questa forma di commissario per altri due mesi dal presidente della regione, Luca Zaia. Crisi e nuova ondata di sofferenze. 5.000 imprese venete a rischio. Ricerca Cerved. Il prolungarsi della pandemia mina il tessuto imprenditoriale. Mode e trasporti i settori più esposti. Nuovo allarme. Da ieri in vigore la norma europea che stringe le maglie sui debiti in default. E poi l'ottimismo di Anfao. L'occhialeria non perderà aziende e posti di lavoro. Il presidente dell'associazione guarda con positività il 2021. La primavera scorsa abbiamo perso il 60-70% del fatturato. Il nostro obiettivo è riprendercelo entro la fine di maggio, arrivando all'amido di Milano in grande spolvero. Questo naturalmente è l'augurio che tutti facciamo al settore, ma anche a tutti i territori in cui insistono le occhialerie. Le regioni incalzano gli impianti da sci. Devono aprire al massimo il 18 gennaio. Inviata una lettera ai ministri Boccia e Speranza. Servono certezze e una data definita per organizzare la ripartenza. Ghezzi, presidente dell'associazione che raduna gli impiantisti, sono in ballo 12 mesi, non 4. Per noi l'inverno vale il 90% del fatturato. Bellunesi disciplinati la notte di San Silvestro, nessuna sanzione fatta dalle forze dell'ordine. I rappresentanti di polizia, carabinieri e guardie di finanza fanno un primo bilancio dei controlli effettuati nelle ore che portavano al 2021. Andiamo ancora avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi e raggiungiamo la sezione riservata alla provincia di Belluno. Sezione che si apre con un bilancio del comune di Belluno. Il sindaco Massaro, il 2020, drammatico e sfiancante, ora avanti con le opere, affrontando la crisi. Dovremmo gestire problemi complessi con gli effetti del Covid che investiranno ogni settore, compresi i comuni, sottolinea il primo cittadino di Belluno. Ci avviamo a chiudere numerosi interventi e a iniziare i lavori per il Ponte sul Piave, la Cucciolo Maresica e l'Auditorium. A Belluno servirà un sindaco in grado, in futuro, di portare avanti il progetto intrapreso e di tenere insieme tutte le anime del centro-sinistra. Training tilt per la neve. Una caporetto. Lunedì è scattato il piano neve che ha tagliato due terzi delle corse. La rabbia dei pendolari. Tutto questo è inaccettabile. Alessandro Denardi di Treni Belluno sbotta. Non è un servizio per una provincia turistica. Capelli. Ordine in prima linea per attivare nuovi medici. Parla il nuovo presidente dell'ordine provinciale. Siamo pronti a rompere le scatole a chi decide. E sul vaccino non ha dubbi. I colleghi che non lo fanno hanno sbagliato mestiere. Andiamo ancora avanti. Sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. La tariffa trascina il bilancio. BIM infrastrutture in crescita. Zanolla. Il 2021 sarà l'ultimo anno prima della cessione del servizio di distribuzione del gas metano. È il momento giusto per ragionare insieme ai soci sul futuro di questa società. Tra le ipotesi anche la fusione con BIM-GSP. I rifiuti e il subentro nelle concessioni Enel. Bottacin. Al governo. I 7 milioni non bastano. Aspettiamo risposte. Si tratta dei 7 milioni che il governo ha stanziato per riparare i danni del maltempo. I 7 milioni apprezzati da Bottacin ma ritenuti insufficienti per rispondere a tutte le esigenze. Riorganizzazione scolastica. La decisione è congelata. Il sindaco Massaro ritirerà la delibera che avrebbe dato avvio al percorso. Mineranze. Conseguiari preoccupate. Troppa fretta. E mancano numerosi dati. L'intera operazione si è esitata nel prossimo anno. I tempi sono stretti. Allerta valanghe. Arancio. Almeno fino a domani. Lunare a terra. A fette. Queste alcune delle conseguenze del maltempo. Via del Piave, Virugo, lavori sui marciapieni. In questo caso siamo in comune, nella città di Belluno. Ed eccoci invece a Feltre. Addio a Irma Lattiraossi. Leniva i dolori con le mani. La notizia avviene da Seren del Grappa. È morta a 97 anni positiva il Covid dopo una vita all'insegna dell'altruismo. In migliaia hanno bussato la sua casa di Porcè per stiramenti e acciacchi. Distribuiti 20.000 euro in buoni per la spesa, le famiglie in difficoltà da parte del comune di Feltre. Servono lavori per 2 milioni dopo i danni del maltempo a Seren del Grappa. Completata la prima stima delle opere per rimetterlo in sicurezza il territorio. Il sindaco Scopel. Interventi necessari anche per prevenire altri fenomeni simili. Mutuo da 2 milioni e mezzo per la futura sala polifunzionale. La notizia avviene da Santa Giustina. L'amministrazione sceglie di finanziare con un prestito la nuova struttura. La minoranza vota contro il bilancio. Troppo carente sullo sviluppo del comune. Resta invariata la tassazione locale anche se c'è incertezza sull'Atari. La mont, dalla grotta dell'Orso, riemergono resti di camoscio e manufatti in selce. Una nuova campagna di studi geopanteologici permetterà di conoscere meglio il sito a San Dammiano e i reperti trovati in passato. La minoranza protesta contro la giunta a Fonzaso disertando il consiglio comunale. Ed eccoci in zoldo. La strada 251 resta chiusa. Solo soccorsi scortati. Forse una corsia sarà liberata dopo la Befana. Ci sono ancora importanti lavori di messa in sicurezza da realizzare. Persistono problemi sul Fadalto. Sono ancora le conseguenze del maltempo di inizio dicembre. Borgo Valbelluna. Variazioni di bilancio. C'era ok. All'unanimità. In consiglio si è parlato anche delle quote nelle partecipate. Vello sollecita più presenza sul tema case di riposo. Longarone. Il piano a neve deve essere gestito in modo migliore. Soprattutto nelle frazioni i disagi sono stati eccessivi. Il guasto di un mezzo e il covid non bastano a giustificarli. Evidenziano dalla minoranza in consiglio comunale. Ponte nelle Alpi. Piccole manutenzioni del comune. E 5.000 euro. La somma ripartita tra gli otto gruppi che nel corso del 2020 hanno prestato la propria opera per il decoro del territorio. Agordo. La farmacia comunale perde l'11% dei ricavi. La struttura ha chiuso l'anno con un attivo di 104.000 euro. La minoranza vota contro il bilancio. Zero investimenti. E siamo a Cortina. I contrari alla variante presentano ricorso. Il comune resisterà. La notizia comunicata in consiglio dall'assessore Belli, giustificando il prelievo per le spese legali dal fondo di riserva. I proponenti parlano di numerose criticità in primis idrogeologiche presenti nel progetto. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dovrebbe esprimersi già il 13 gennaio. A Cortina le luci dei mondiali illuminano ogni sera la facciata del municipio. E ancora da Cortina impianti varianti nuovi alberghi, siglata intesa per il Master Plan Olimpico. Sottoscritto il protocollo in vista dell'appuntamento sportivo del 2026. Saranno valorizzati i luoghi simbolo di Cortina. Così la nostra provincia riuscirà ad attrarre giovani e nuove famiglie. Questo il parere della Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Scoppia la bombola, il fuoco distrugge la casa. Siamo a Santo Stefano di Cadore. Furioso incendio la sera di San Silvestro con due fratelli che sono riusciti a mettersi in salvo prima di chiamare i pompieri. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno che si apre con un titolo dedicato all'emergenza sanitaria. Infermieri in fuga, allarme nelle RSA. L'Ulss ne ha assunti 103 a tempo indeterminato. La maggior parte viene dalle case di riposo che presto andranno in crisi. Alla Sessa di Belluno, via 10 su 16 a Lamont, saranno 6 su 9. In questo modo non riusciremo a garantire l'assistenza, dichiarano i dirigenti delle case di riposo. E' curiosa la fotonotizia messa in prima pagina dal Gazzettino. Capodanno, tuffo nel torrente gelido. E' la foto di Angelo Paganin che gestisce a Santa Giustina due piscine. Scrive nella didascaria il giornale. Così Angelo Paganin, che con l'onda blu gestisce le piscine di Santa Giustina e Piedavena, definisce il tuffo nel Vesesse. Un bagno di capodanno alle 10 di mattina, mentre attorno nevicava in un'acqua gelida. Spero che gli impianti riaprano a febbraio. Operatori in fuga, RSA in crisi. E a pagina 2 il Gazzettino approfondisce quella notizia che ha scelto come notizia di lancio del giornale. Morti nell'epidemia col test positivo a Belluno, il triste primato regionale. Nel 2020 le vittime contagiate da coronavirus sono state 429 in provincia di Belluno, più di 20 ogni 10.000 residenti. La media regionale è ben più bassa. 13 ogni 10.000 residenti. E i criteri di categorazione dei decessi sono uguali. Il primo bollettino del 2021 dice che le persone che lottano per la vita sono 16, cioè sono 16 coloro che sono ricoverati in provincia in terapia intensiva. E i morti ieri sono stati 2. Contagi ancora in forte crescita sono stati 213 nelle ultime 24 ore le persone positive individuate dalla ULS Dolomiti. Piano per tornare in classe, più bus e partenza graduale, si può arrivare fino al 75%. Ranza di Dolomiti Bus saremo in grado di mettere in strada 18 mezzi aggiuntivi di nostra proprietà tra urbano ed extraurbano. Primi nati, Belluno vince la sfida, per così dire, la parola infatti è scritta tra virgolette. Nell'ospedale del capoluogo, il primo vagito del 2021 da una coppia dell'ongarone, è venuta alla luce Matilde. La feltra è di Ginevra, il nastro rosa che apre l'anno. Nelle strutture ULS c'è stato un lieve aumento dei parti. Andiamo ancora avanti. Rilancio delle Megal, snobbato il bando, contributi. Treni in crisi, piano neve, da rifare. A lanciare l'allarme, Treni Belluno, il gruppo nato nel 2002, che ha definito questi giorni una caporetto ferroviaria. Ieri hanno subito modifiche 25 corse, dalle 6.30 del mattino. Serve una programmazione. Non basta la dedizione, sottolineano. Acqua, il rincaro è scongiurato. Affermarlo l'assemblea di BGSP. Neve e disagi, piazza transennata. Misura precauzionale per il pericolo di caduta dei rami. Il circolo PD dell'Oltrardo a Massaro, strade impraticabili. Nel birino la Bellunum per i cassonetti abbandonati in Borgo Piave. Molti la difendono, non poteva fare di più. Feltre, ladri scartanati tra Canonica e Sport. Fine anno di furti a Feltre nel mirino, oltre alla parrocchia di Nemeggio, anche la sede di Anzù della società San Vittore. Al gruppo calcistico hanno provocato danni e rubato salubi. Nello stabile parrocchiale hanno dato la caccia a soldi e offerte. Baristi, camerieri commessi, i nuovi poveri. Boom di richieste a Feltre per i buoni spesa, anche di persone che mai si erano rivolte ai servizi sociali del comune. Frane e danni idrologici, conto da 2 milioni di euro a Seren del Grappa. Dopo la ricognizione del comune, la lista inviata alla regione comprende la necessità di nuove opere idrauliche. Santa Giustina, previsioni nere, 15% di entrate in meno nel 2021. Meno risorse da Imo e IRPEF, ma le tasse non si alzano, questa la decisione del comune. Se Seren del Grappa, serra distrutta scatta la raccolta fondi. Gara di solidarietà per Fantinelle, colpito dalla neve a Porcen. E c'è anche la foto della serra caduta sotto il peso della neve. Unificazione degli istituti. La minoranza tira il freno a Borgo, Val Belluna. E siamo in al pago, dad, 46 mila euro, a fondo per tutto, per tablet e PC. Mense scolastiche, appalti scaduti. Il comune di Sedico si affida alla provincia. Il sindaco obiettivo dare un servizio di qualità ai bambini. Ponte delle Alpi, opere per un milione e mezzo, approvato, un bilancio solido. Le opere principali saranno in marciapiedi, lungo, viale, cadore. Addio a Giulia, 108 anni, la super centenaria bellunese. La donna di San Gregorio, la più vecchia in provincia, viveva nella RSA di Sedico. Mazzate sull'auto, caccia al vandolo, ad Agordo. Incursione di ignoti a Natale in un cortile privato, danneggiata la vettura d'epoca della famiglia Gnie Caldart. Ora costerà migliaia di euro se sistemare la baghera del 1980, denuncia appello dei proprietari e messaggio all'ignoto autore. Falcade salta alla tradizionale notte dei coscritti e compare un cartello con gli auguri. Un botto poi le fiamme alte, danni in due appartamenti a Santo Stefano di Cadore. Incendio l'ultimo dell'anno in via Udine. Tutti gli inquilini sono riusciti a fuggire. La causa sarebbe dovuta allo scoppio di una bombola di gas posta sul terrazzo. Un masterplan per prepararsi alle Olimpiadi. Accordo tra regione, provincia e comune di Cortina. Confindustria approva la proposta. Fame di gran fondo. 300 iscritti in 5 ore alla competizione feltrina. Grande risposta alla scelta degli organizzatori della Sportvolle Dormiti Race di aprire le iscrizioni a Capodanno. L'edizione 2021 è in calendario per il prossimo 20 giugno. Grazie a punti nella gara sprint del Tour de Ski. In Svizzera il Sappadino al 29esimo posto, comarella oggi nel vivo del circuito. All'inferno di Bolzano e ritorno. Triangolo rosso è il titolo del libro di Rosario Palmieri che il figlio Paolo ha curato per ricostruire la vicenda degli internati in un campo di concentramento nazista, così drammaticamente vicino a Feltre. E con questa notizia si chiude la rassegna stampa di oggi. A tutti voi il più cordiale a risentirci.